Il presidente della regione, Rosario Crocetta, ieri in visita a Modica, ha risposto alle domande dei giornalisti in riferimento alla sua candidatura. Per Crocetta non c'è partita, è stato lui stesso a sostenerlo. E' morta anche la bimba di sei anni che era stata investita ieri alla periferia di Gela insieme alla madre, investita da un'auto pirata che non ha prestato soccorso. L'uomo si è costituita a carabinieri solo nelle ultime ore. Due importanti incontri sono previsti a Palermo e a Roma dopo il confronto tra il mondo della scuola, i sindacati e l'assessore regionale all'istruzione Bruno Marziano, ieri a Lerico Fermi di Ragusa. E' la provincia Blea l'unica ad aver avuto accesso a un bando finanziario dall'Unione Europea, dal CONI che ha permesso di inserire nel mondo dello sport i migranti minori non accompagnati, ospiti nei centri di accoglienza. Buonasera e bentrovati a una nuova edizione di MTG. Il presidente della regione, Rosario Crocetta, ieri in visita a Modica per parlare delle difficoltà del settore avicolo, ha risposto alle domande dei giornalisti in riferimento alla propria candidatura. Per Crocetta non c'è partita e lui stesso a sostenerlo, ma allo stesso tempo non è stato in grado di fornire una percentuale a suo sostegno. Per lui i numeri ci sono, ma non riferisce a quanto a Monti il totale. Presidente, che percentuale si aspetta per lei stesso? Sono i decideri dei siciliani, anche perché stabilire i percentuali dipende dal numero di candidati, dalla loro cosa. Io mi aspetto percentuali abbastanza alte perché dei sindaggi li ho fatti e non c'è partita rispetto a possibili interlocutori. Quindi pari allo? Che sia la presenza del nuovo, di Micari, che avanza e si espone, che sia la non totale presa a visione e consapevolezza dei numeri, territorio per territorio. Crocetta non risponde, o meglio, non fornisce la propria percentuale. Pur asserendo però che sarà alta, che ha date alla mano, che lo confermano e che soprattutto danno credito e valore ad un operato ottimo, il suo, durante questi cinque anni. Sono queste le sue consapevolezze. Ho lavorato bene, sono il candidato naturale del centro-sinistra, va rispettato lo statuto e sono pronto a farcela e ce la faremo. Queste le convinzioni su cui però non possiede una percentuale il governatore della Sicilia o comunque non le vuole tracciare. Sarà per scaramanzia? Per la legge del troppo presto per esporsi? Questo non è dato sapere. Ciò che è certo è che lui, Crocetta, è sereno ed è candidato. Inevitabili i riferimenti a Micari, per il governatore Crocetta è necessario fare delle precisazioni. Non posso accettare di essere fatto fuori da una conciura di palazzo. Tanto io sono il candidato naturale del centro-sinistra, del Partito Democratico, sulla base dello statuto del PD, che vuole che il Presidente uscente sia riconfermato, a meno che non si facciano delle primarie. Articolo 18,5 dello statuto. Micari mi fa piacere che sia candidato per il centro-sinistra, le auguro ogni bene, ma io sono candidato. Gli auguro ogni bene, ma io sono candidato. Se Micari vuole pensare a questa candidatura, accetti la sfida democratica facendo le primarie. Se poi non hanno intenzione di fare le primarie, chi ha paura di fare le primarie, perché magari pensa di perderla, dovrebbe avere anche la paura di perdere le elezioni. Dopo cinque anni torneranno ad incontrarsi nuovamente, qualora si dovesse avere la conferma sul nome di Crocetta per il centro-sinistra, Musumeci, Cancelleri e infine proprio l'attuale governatore. Nel 2012 Crocetta ottenne il 30,5%, mentre si fermò al 25,5%, ottenendo dunque il secondo posto nello Musumeci, che in questi cinque anni ha lavorato per riprendersi quanto perso nella precedente elezione. Crocetta, pur non volendo commentare le candidature degli altri, ha così riferito. Ma io perché devo parlare degli altri? Cioè voi mi fate delle domande che ne pensa di Micari, che ne pensa di Musumeci, io non penso nulla, sono dei candidati. Si faccia una sfida leale, io sono candidato, io posso parlare del mio programma, abbiamo gli obiettivi delle cose, non ho l'abitudine di parlare male degli altri, né tanto meno bene. Ognuno si farà la sua politica, io credo che se avessero vinto gli altri, cinque anni fa noi o i grillini o lo stesso Musumeci o la Sicilia oggi non sarebbe stata salva e risanata, noi l'abbiamo fatto, incrementando il PIL, eliminando i debiti, eliminando il deficit, cominciando a fare diventare la sanità una cosa seria. Una scelta di libertà è stata sempre così e io la battaglia per la libertà la convetterò fino in fondo e sono sicuro che vincerò anche questa volta. Intanto il presidente della regione Rosario Crocetta ha convocato una conferenza stampa domani alle 12 all'Hotel delle Palme a Palermo. La convocazione arriva all'indomani della segreteria del PD siciliano che ha espresso apprezzamento sostanziale alla candidatura del rettore di Palermo Fabrizio Micari, sponsorizzato dal sindaco Orlando e sul quale c'è la convergenza dei centristi di Casini e Delia, mentre è atteso il via libera di Alfano. Lo consideriamo chiuso, ma con Musumeci abbiamo deciso che quando sarà ufficiale faremo una conferenza stampa all'Ars. Lo dice il commissario di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Micicche, parlando del ticket Musumeci-Armao che dovrebbe traghettare il centrodestra unito alla regione di novembre in Sicilia. Sono convinto, aggiunge Micicche, che la strada giusta è questa e sono convinto che si andrà avanti. C'è un programma che è quello di Gaetano-Armao che vorremmo venisse preso in considerazione dalla coalizione. Il settore avicolo è stato al centro di un confronto tra il sindaco di Modica Ignazio Abbate, addetti del settore e il presidente della regione siciliana Crocetta. Quest'ultimo nella giornata di ieri ha raggiunto Palazzo San Domenico dove ha fatto il punto della situazione e reso conto di quanto è emerso in questo servizio di Marco Scavino. Il presidente della regione Sicilia, Rosario Crocetta, ieri pomeriggio a Modica è invitato dal sindaco Ignazio Abbate. Il governatore ha incontrato i rappresentanti del polo avicolo modicano con in testa il presidente Franco Savarino e Lorenzo Giannone, imprenditore avicole e consigliere comunale. I problemi del settore sono stati messi sul tavolo con la disponibilità di Crocetta a trovare soluzioni nell'immediato. Il presidente ha incontrato anche l'imprenditore Leocata, titolare dell'Avimec. L'azienda avicola che proprio un anno fa è stata distrutta da un pauroso incendio. Crocetta ha fissato immediatamente un incontro per giovedì pomeriggio a Palermo con l'assessore Lobello e con i diversi funzionari regionali per trovare definitive soluzioni in modo da consentire all'Avimec la ripresa dell'attività nella nuova struttura. Si è discusso anche della questione riguardante lo smaltimento delle carcasse bovine, altro argomento scottante che pone in particolare i comuni di Modica e Ragusa in difficoltà essendo i due territori più produttivi del sud Italia. È impossibile pensare di realizzare nuovi capannoni di infrastrutture per poter fare l'allevamento, specialmente col benessere animale, l'allevamento a terra di tutto il polo avicolo, per l'allevamento avicolo, con infrastrutture con indicazioni da parte della sovrintendenza che non stanno neanche in terra. E quindi per questo abbiamo voluto direttamente coinvolgere il governo regionale che ha dato la propria disponibilità e proprio organizzato per giovedì alle 15 un incontro a Palermo proprio con i dirigenti anche regionali e locali per poter decidere e dare delle indicazioni che vanno in linea con quelli che sono i dettami comunitari e quelli che sono anche le linee a guide che fanno sì che questi capannoni vengono realizzati con alcune caratteristiche uguali anche per tutto il territorio e che sono anche compatibili archiettonicamente con quelli che sono il paesaggio del nostro territorio. Fino al prossimo gennaio 2018 permane lo stato di emergenza dopo il nubifraggio del 23 gennaio nel territorio della provincia di Ragusa, in particolare a Scicli, Modica e Ispica. In quest'ultima città la tracimazione del canale circondariale di Bonifica fu causata dall'accumulo di un tappeto di oltre 30 metri di canne a Cozzo Muni, dichiara il presidente Giuseppe Roccuzzo, chiederemo al presidente della regione di inserire nel piano degli interventi il rifacimento del ponte di Cozzo Muni, un'opera che potrà limitare o evitare in futuro il riferificarsi delle disastrose alluvioni. È una priorità, l'alluvione causò danni stimati di quasi 3 milioni di euro di cui circa un milione di danni causate alle strade urbane ed extraurbane, dichiara il sindaco Pierenzo Muraglie, un intervento necessario a rifare il ponte di Cozzo Muni, il cui costo è calcolato in 600 mila euro, di ingralunga inferiore ai danni causati dalla sua ostruzione. E cambiamo decisamente argomento, apriamo la pagina di cronaca con una tragedia avvenuta a Gela. È morta questa mattina anche la bimba di 6 anni, travolta da un'auto pirata insieme alla madre ieri sera in una zona periferica della città. La bimba era arrivata in gravissime condizioni all'ospedale di Cristina di Palermo, dove era stata trasferita. La madre, 35 anni, è morta sul colpo in via Venezia, dove l'auto pirata è fuggita poco dopo il tremendo impatto. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi del padre, che poco distante Nerme ha assistito all'impatto. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando la strada mano nella mano con la figlia, quando improvvisamente l'auto le ha travolte. Chi stava alla guida non si è fermato e ha proseguito la sua folle corsa, lasciando perdere le proprie tracce. Solamente 30 minuti più tardi si è costituita il reparto territoriale dei Carabinieri. Si tratta di un giovane di 23 anni accusato di omicidio stradale con fuga del conducente e lesioni personali gravi, al momento agli arresti domiciliari. Svolto nell'omicidio del bracciante agricole Emanuele Calcagno, freddato il 23 agosto scorso nella sua casa di campagna a Palagonia, nel Catanese. Le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato il sicario di cui non si conosce l'identità. I Carabinieri continuano senza sosta le indagini. Cerchiamo di capirne di più nel servizio di Viviano Sammito. Non è più un uomo fantasma il killer che ha freddato il bracciante agricolo di 58 anni di Palagonia, Francesco Calcagno, il 23 agosto scorso nella sua casa di campagna nel Catanese. Le telecamere installate all'interno del rustico hanno ripreso perfettamente in volto il sicario e la dinamica dell'omicidio. Ma non si conosce l'identità dell'assassino. Il procuratore di Calcagirone Verzera ha chiesto aiuto alla popolazione per concorrere all'identificazione del killer e ha chiesto ai cittadini di mettersi in contatto con i militari dell'arma attraverso due numeri telefonici 095 25 09 227 e al 331 37 67 225, anche in forma anonima. Ecco il video che ha incastrato l'uomo con la pistola in mano. Dal cancello si vede entrare di corsa Calcagno che tenta di scappare dai colpi d'arma da fuoco, probabilmente dopo aver avuto un diverbio con l'assassino. Poco dopo questo entra nel podere e rincorre la vittima fino ad ucciderla. Successivamente viene ripreso in primo piano tra le oiole e a omicidio completato si vede allontanarsi di spalle indisturbato mentre il cane un pastore tedesco del bracciante agricolo si scansa. Diverse sono le piste ipotizzate dalla procura, ma quella più accreditata è la vendetta, come ha confermato il procuratore Giuseppe Verzera, ma si viaggia su tante ipotesi. Al momento non abbiamo elementi utili, ha detto il capo della procura, per dire che è stata una resa dei conti. Il bracciante agricolo ha ucciso il reo confesso del delitto del consigliere comunale Marco Leonardo, conosciuto come il bichingo freddato dieci mesi fa, il 4 ottobre 2016. Calcagno aveva riferito di aver ucciso Leonardo per legittima difesa, circostanza confermata dal GIP. Il 58enne aveva raccontato che il primo a sparare era stato il bichingo con una 7.38 e lui aveva risposto con una pistola calibro 38. Tre i colpi in totale e quello sparato dal consigliere comunale aveva raggiunto il titolare del Caffè Europa ricoverato il in ospedale. Il bichingo invece era stato colpito al petto e alla gola. Il delitto in pieno centro per un debito di 3.000 euro, un paio di mesi di carcere, poi l'attesa del processo per omicidio e porto abusivo d'armi a piede libero. Il processo non è ancora iniziato. Calcagno, con precedenti per truffa, era tornato in libertà nel mese di aprile. Gliel'hanno voluto a fare pagare e ci sono riusciti. I carabinieri adesso chiedono la collaborazione dei cittadini per dare un nome a quell'uomo con la pistola in mano, con la probabilità che sia lo stesso dopo la circolazione del video a costituirsi. Una persona è stata arrestata e 9 denunciate nell'ultimo fine settimana ad agosto. La polizia è stata impegnata oltre che nei servizi di ordine pubblico connessi alle importanti manifestazioni folcloristiche e discoglitti in diversi servizi di polizia giudiziaria che hanno portato all'arresto di un uomo e al deferimento alle autorità giudiziarie di ben altre 9 persone. In episodi ben distinti gli uni dagli altri. Sono stati intensificati i controlli nel territorio di Vittoria dalla polizia, soprattutto nelle zone rurali dove un 43enne di Butera che vive nella zona periferica di Vittoria si era allacciato abusivamente a monte del misuratore dell'energia elettrica. La casa infatti era ben illuminata ma gli agenti si sono accorti che il contatore dell'Enel era staccato e il 43enne aveva studiato una strategia per truffare la multinazionale coprendo con il cemento i fili privati dopo averli collegati all'allaccio abusivo. I tecnici dell'Enel hanno constatato che l'energia elettrica prelevata non veniva misurata. Per l'uomo scattato la denuncia penale e trattandosi del reato di furto aggravato, d'intesa con la procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa sono scattati gli arresti domiciliari. Numerose poi anche le richieste di intervento in relazione a reati generalmente perseguibili a quella di parte ma che impongono grande attenzione da parte dei poliziotti in quanto particolarmente gravi. Dalle lesioni personali alle minacce, alla sottrazione di persone incapace, all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Sono state denunciate due donne e anche sette uomini. In episodi tutti distinti ma accomunati da rapporti di parentela deterioratisi che si protraggono nel tempo e che spesso provocano atti di violenza fino a coinvolgere tutti i componenti della famiglia, compresi i minorenni. Sono stati sottoposti ad altre due sedute in camera iperbarica i coniugi, intossicati dall'esalazione di gas, mentre dormivano in una camera d'albergo al centro di Ragusa. La coppia, in seconda luna di Miele, 65 anni lui e 60 anni lei, si sono salvati grazie all'intervento del titolare che ha chiamato il 113 dopo che non li aveva visti uscire dalla stanza tutta la mattinata. La donna è stazionaria ricoverata al canizzaro di Catania e i medici hanno garantito che i valori si sono normalizzati, così come quelli del marito che rimane ricoverato all'ospedale Umberto I di Siracusa. Il paziente alle cui condizioni di salute sono migliorate proseguirà il trattamento in camera iperbarica al fine di ridurre il rischio di eventuali esiti tardivi di intossicazione da modossido di carbonio. Il presidente della Commissione Sanità Lars Pippo Di Giacomo interviene sull'itere relativo all'apertura dell'ospedale Giovanni Paolo II. Il commissario dell'ASP7 Salvatore Lucio Ficarra, addetto Di Giacomo, ha già proceduto a una ricognizione della documentazione tecnica per vagliare gli ultimi dettagli per mettere a regime la struttura nel giro di poche settimane e consegnarla ai cittadini. Sono fiducioso del fatto che nel giro di qualche settimana l'ospedale verrà consegnato alla salute dei cittadini di Ragusa, ma anche di chi verrà da fuori provincia per usufruirne. Queste le parole dell'onorevole Pippo Di Giacomo intervistato da noi sulle tempistiche dell'iter che porterà all'apertura del Giovanni Paolo II, il nuovo ospedale di Ragusa. L'ospedale era stato già dissequestrato dalla Guardia di Finanza su ordine del GIP del Tribunale Andrea Reale per consentire il completamento della struttura. I sigilli erano stati apposti in buona parte dei locali lo scorso 30 giugno nell'ambito delle indagini scaturite dall'inchiesta che vede scritti nel registro degli indacati persone tra le quali l'ex manager dell'ASP Ragusa Maurizio Ericò e il dirigente dell'ufficio tecnico. Nell'ospedale sarebbe stata riscontrata ed accertata una difformità di funzionamento degli impianti di climatizzazione annessi a suddette sale medicali. Di Giacomo ha dichiarato che il commissario dell'ASP 7, Salvatore Lucio Ficarra, ha già proceduto a una ricognizione della documentazione tecnica che aveva portato a fine giugno all'interruzione dell'apertura di uno dei più moderni ospedali d'Italia. L'onorevole aggiunge che quello che ne è risultato è una serie di inadempimenti che bisogna completare in maniera più veloce possibile. Investimenti per mettere a punto questa struttura. Si tratta di dettagli che comunque occorre mettere a regime nell'ottica della sicurezza della struttura stessa. Le perizie sono in completamento, il commissario straordinario si è messo subito in raccordo con le altre istituzioni, cose che si sarebbe dovuta fare fin dall'inizio e quindi sono moderatamente fiducioso che nel giro di qualche settimana l'ospedale verrà consegnato alla salute dei cittadini di Ragusa, della provincia di Ragusa e anche fuori dalla provincia di Ragusa. Sul fronte scuola sono in agenda altri due appuntamenti importanti a Palermo e a Roma dopo il confronto di ieri tra il mondo della scuola. I sindacati è l'assessore regionale all'istruzione e formazione Bruno Marziano. La ministra Fedeli ha convocato anche un incontro per giovedì. Un'anticipazione in questo servizio. Una via d'uscita c'è per scongiurare i disagi di migliaia di docenti costretti a immigrare al nord pur di essere stabilizzati dopo l'incontro che si è tenuto ieri nella Olamagna del liceo scientifico Enrico Fermi di Ragusa con l'assessore regionale alla pubblica istruzione Bruno Marziano. Qualcosa si sta muovendo. Sono già in programma due incontri e il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale Maria Luisa Altomonte riceverà domani, mercoledì 30 agosto alle 10, nella sede dell'URSS in via San Lorenzo a Palermo, una folta delegazione sindacale del comparto scuola. Staranno presenti per discutere degli organici del mondo scolastico o personale insegnante ATA in provincia di Ragusa i segretari regionali e provinciali di categoria. Starà presente l'assessore regionale all'istruzione anche Bruno Marziano che proprio ieri ha assunto la decisione di contattare per un incontro il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per restabilire una volta per tutte la sede professionale lavorativa di centinaia di insegnanti della provincia di Ragusa, molti delle quali destinate in una sede del nord Italia. La ministra dell'istruzione Valeria Fedeli su questo argomento ha convocato per giovedì 31 agosto il ministero i rappresentanti regionali e nazionali della categoria. Per la Sicilia saranno presenti rappresentanti della CGL Graziana Pistorino e Anna Maria Santoro. È una vera e propria emergenza scuola che riguarda il meridione, ha sottolineato il segretario provinciale della Federazione dei lavoratori della conoscenza della CGL Adriano Rizza, il quale ha spiegato che sono due le possibili soluzioni. Una deroga di qualche giorno, considerato che il primo settembre i docenti, circa 200 in provincia di Ragusa, devono partire verso le sedi assegnate per creare presupposti per l'assegnazione dei posti di sostegno, dando la priorità ai docenti di ruolo ma salvaguardando i posti già assegnati. E la seconda proposta è quella di accelerare i tempi sulle assegnazioni provvisorie, considerando che ad oggi sono vacanti i 20 posti nelle scuole dell'infanzia e primaria e non sono ancora stati definiti. Quindi ci sono docenti che hanno presentato istanze di inserimento, ma a poche settimane dall'inizio della scuola non sanno dove saranno collocati. Situazioni drammatiche che riguardano migliaia di lavoratori della scuola costretti ogni anno a un esodo dovuto alla mancata stabilizzazione dei posti in organico in Sicilia. Il Governo regionale, condividendo totalmente le istanze avanzate dalle organizzazioni sindacali del mondo della scuola, farà proprio i tre punti principali. Mobilità annuale del personale di ruolo, aumento tempo scuola in Sicilia, problematiche legate all'organico dei docenti specializzati di sostegno. Adesso ci fermiamo per una pausa pubblicitaria. A tra poco. Bentrovati in studio. Sono stati consegnati venerdì scorso i lavori e l'impresa esecutrice ha depositato la comunicazione d'inizio ai lavori del piano integrato di Iungi previsto per oggi. Saranno realizzate due aree di parcheggio pubblico per autovetture e per pullman lungo la via Tiepole e la via Ferraris. Una nuova perimentrazione del campo ciccio scapellato saranno sistemati gli spogliatoi e i servizi igienici. I lavori interesseranno anche il piazzale delle Olimpiadi antistante il campo che diventerà dunque una nuova grande area pubblica attrezzata. In fase di esecuzione dei lavori sarà comunque garantita la fruizione dell'area del campo da gioco da parte delle società sportive che potranno dunque allenarsi e disputare regolarmente le partite di campionato. Sport e integrazione sociale. La provincia di Ragusa è l'unica ad aver avuto accesso a un bando finanziato dall'Unione Europea e dal CONI che ha promesso di inserire nel mondo dello sport come calcio, basket e bandington i migranti minori non accompagnati ospiti nei centri di accoglienza del territorio ibleo. Sono gli stessi che hanno disputato il campionato di calcio al Camarena Beach Sport che vedremo giocare anche nel Modica Calcio. Sono ragazzi africani provenienti in gran parte dal Gambia e fanno parte dell'Harley Queens, la squadra di calcetto 4 contro 4 formata per il campionato che si è disputato al Camarena Beach Sport sulla rivera Camarena Scoglitti per tutta l'estate. Questi ragazzi, giovani rifugiati di guerra diretti dal coach Paolo Fuggetta, sono stati la rivelazione del torneo mostrando elementi interessanti come il giovane Ali, autore di molte reti e il portiere Bacari che hanno suscitato l'interesse di alcune squadre direttantistiche su tutte il Modica Calcio. Questi giovani campioni che vivono nei centri di accoglienza in provincia di Ragusa sono stati inseriti nel mondo dello sport grazie a un mando finanziato dal CONI e dall'Unione Europea. Questo è il primo progetto europeo finanziato dal CONI a Roma, Ragusa è stata la prima provincia a partire, io sono stato fortunato e anche un po' bravo a vincere questo bando, quindi io ho questi cento ragazzi che sono minori non accompagnati al quale devo insegnare a fare sport. Sono ragazzi che vengono dal Bangladesh, che vengono dall'Africa centrale, questi qui che giocano stasera la maggior parte sono al Gambia. Io gli devo insegnare a fare sport però sono andato al di là un po' del mio compito e quindi ho cercato di sistemare questi ragazzi, soprattutto i più volenterosi in alcune squadre, per esempio due ragazzi che stanno giocando questa sera andranno nell'Under 18 del Modica Calcio di Momo Carpentieri, mentre un terzo che è stata la sorpresa di tutti i vari tornei qui a Camarina, Sceriffo Camara è stato proprio preso da mister Rappocciolo nella prima squadra e appena risolto i problemi di tesseramento andrà sicuramente in campo con la promozione. Altri tre sono andati già nel basket Comiso, incominceranno questa settimana, i ragazzi del Bangladesh che sono favolosi nel badminton a Comiso, gli ho costituito una squadra di badminton e il progetto è quello di affiancare alla mia squadra di rugby a vittoria una squadra di calcio di terza categoria dove coinvolgere tutti questi ragazzi e fare un campionato vero e proprio. Continuano gli eventi inseriti nel cartellone dell'estate in Monterossana. Domani sera alle 20.30 sul palco della suggestiva Piazza San Giovanni di Monterosso Almo si aprirà il sipario alla terza tappa del concorso regionale Miss Beauty Award Miss e Mister Monterosso Almo con la regia di Pietro Galvagno patron della manifestazione giunta alla sua 27esima edizione ad impreziosire la serata a momenti dedicati al calcio, alla musica live con alcuni ospiti che si esibiranno sul palco. L'atteso evento sarà condotto dalla promotrice già Miss Mamma 2015 Lucia D'Aquila con la partecipazione di Daniele Voix, speaker di Radio Mediterraneo. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro buona serata. Grazie a tutti.